E' la vigilia di Cerignola Pescara, fischio d'inizio domani ore 17.30, si giocherà senza i tifosi biancazzurri al seguito per il divieto delle autorità preposte. Ha parlato questa mattina il tecnico biancazzurro Alberto Colombo rispetto alla scorsa settimana, un'assenza in più, quella del portiere Plizzari squalificato giocherà sommariva dal primo minuto. Tante domande al tecnico biancazzurro anche sul aspetto psicologico visto che potrebbe essere l'ultima chance per Colombo sulla panchina del Pescara. Ha risposto in maniera chiara e precisa, la cosa non mi preoccupa, conosco bene il calcio. Dubbi di formazione, il tecnico Colombo soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo ha fatto capire di avere dei dubbi positivi. Giocherà uno tra delle monache Colai o Cupone nei tre dietro a Vergani completati da Raffià che farà il trequartista e Merola. I passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico biancazzurro che ha anche detto un passaggio importante, Pioli era quasi out, poi ha vinto lo scudetto. Ecco questo è il messaggio suo di speranza a se stesso. Dicevo ci andiamo a sentire i passaggi chiave della conferenza stampa con le immagini di Diego Martelli. Come sta la squadra, se c'è qualche eventuale indisponibilità dell'ultima ora, come è andata la settimana? L'altra domanda è quanto le ha dato fastidio in questa settimana aver sentito nomi di allenatori pronti per entrare in caso non dovesse andare bene a Cerignola. Allora, la settimana poi diventa anche stucchevole dire è andata bene, è andata male, perché poi è la verità che interessa come vada domani la partita. Quindi siamo tutti consapevoli del momento che si sta vivendo e l'orgoglio ci deve spingere veramente, sottolineo veramente, a dare dei segnali di voglia di uscirne in modo chiaro e completo da una situazione sicuramente complicata. Mi ha dato zero fastidio sentire dei nomi o leggere della possibilità o l'eventualità che sia un'ultima spiaggia a quella di domani. Perché? Perché comunque ci sto nel calcio da diverso tempo, so come vanno le cose, so che è tutta normalità. E quindi perché mi devo fasciare la testa prima del previsto e del possibile, altrimenti vivrei male la situazione. Ma pur sapendo che è un momento difficile, complicato, ma non lo voglio nascondere, ci sono stati momenti più semplici, ma se non si affrontano e non si prova a dare il meglio di sé per non uscirne, parti già sconfitto. Quindi è quello, credo che sia io che la squadra abbiamo la volontà di dimostrare che vagliamo di più di quello che ultimamente i risultati dicono e soprattutto le prestazioni dicono. Perché comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro in una parte di stagione e un lavoro che è deficitario nella parte restante. Quindi questo è che conta. Quindi possiamo, perché la squadra ha dei valori, possiamo e dobbiamo fare di meglio di quello che siamo riusciti a fare finora nell'ultimo periodo. Non cambia assolutamente nulla rispetto alla settimana scorsa, quindi tranne chiaramente Pizzari squalificato. Questo è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Ok, allora la mia domanda adesso è un po' tattica, nel senso che almeno da quanto si è capito in settimana si potrebbe tornare al 4-2-3-1 standard con Raffià dietro la punta. Raffià esterno è un interrogativo troppo grosso? Rende bene al meglio solo dietro la punta, quindi solo da trequartista? Oppure magari si ci può lavorare in futuro? No, è chiaro che oggi, siccome il tempo è tiranno, il tempo è ridotto per poter cercare di fare bene, io credo che l'obiettivo mio sia quello di poter mettere i giocatori nelle condizioni migliori di esprimersi. Vedendo le prime settimane di Raffià, credo che lui si possa o abbia anche espresso in questo breve tempo in cui è con noi le migliori prestazioni quando si è trovato a lavorare da, chiamiamolo, trequartista o da centrocampista offensivo. Ma non che la settimana scorsa abbia fatto male, anzi io credo che le migliori palle e gol nel primo tempo o le azioni che si sono sviluppate con più frequenza arrivavano tutte dalla parte di Raffià, quindi sul centro-sinistra, sulla sinistra nostra, perché lui ha sicuramente delle doti tecniche importanti come regista offensivo. E' chiaro che, come dicevo, per caratteristiche oggi mi sembra più portato a essere definito un trequartista o un centrocampista offensivo, non sicuramente un esterno. L'aspetto ambientale è che è una squadra che sta richiamando il pubblico ad incitarla, è uno stadio non di grandissime dimensioni, per cui io credo che con l'afflusso che ci sarà domani possa essere comunque un catino bollente. Questo non ci deve spaventare perché, ripeto, quando noi siamo in fiducia e abbiamo già dimostrato in altri ambienti complicati di poter far bene. E' una squadra di categoria, ma nell'accezione positiva del termine, ossia di gamba e con giocatori di qualità, che ha determinate caratteristiche, molto pericolosa perché nelle ripartenze ha tantissimi giocatori di grande gamba, di grande motore e per cui è una formazione che sta facendo veramente bene. Chiedere a Mora di fare uno dei due in mezzo al campo è un rischio grande, vista la caratteristica che diceva poco fa del Cerignola, quindi squadra con grande gamba nelle ripartenze, oppure la qualità tecnica di Mora, il saper giocare a calcio, può supplire questa caratteristica. E poi, dal punto di vista psicologico suo, nell'ultimo mese e mezzo, ultimi due mesi, che sono i mesi del Pescara in inversione rispetto all'inizio, c'è qualcosa che non rifarebbe Colombo? Beh, diciamo che partiamo dall'ultima. I resoconti li faremo quando ci saranno le bocce ferme. Oggi stiamo ancora lavorando, ma è chiaro che ogni settimana ci porta a fare delle riflessioni, sia quando si vince, sia quando si perde. Queste esperienze ti possono sicuramente formare e migliorare, però è chiaro che a oggi dire che si poteva fare qualcosa di diverso, probabilmente è facile dire di sì, perché il momento non è dei più positivi. Però è anche vero che non va dimenticato quanto di buono è stato fatto. Chiaro che ci sono delle caratteristiche da rispettare. Se noi, allora, preferisco poter mettere qualcuno, uno o pochi, in difficoltà rispetto a tanti altri. Ecco, questo è un po' il discorso. È chiaro che, per come vedo io le caratteristiche dei miei centrocampisti, magari Mora è più adatto ad un centrocampo a tre. Però, siccome credo che in questo momento ci sono giocatori che possano essere dei valori aggiunti o che ci possano dare qualcosa in più in altri contesti tattici, allora chiedo un sacrificio a uno piuttosto che a due o tre.